Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Dungeon Rush Mi sono messo il titolo lì per riuscire a ricordarmelo Succede come sempre Va bene facciamo che andiamo avanti nel nostro ultimo piano E speriamo bene che facciamo l'edit Insomma si Cioè non è l'ultimo, è il penultimo Insomma ho detto già una cacata più inizio video Fino alla fine sa quanto li dico Sapete un sacco E così Vabbè vediamo E speriamo in qualche equipaggiamento degno del nostro nome Eh iniziamo proprio bene Insomma si E vabbè sono tre scheletri Se sono tutti in prima linea Usiamo lui e siamo postolo Io direi che facciamo così Si forse faccio più danni Dovrei vedere ancora capire questo botto Questi picchi danneggiati E questo facciamo così vai Iniziamo alla grande col botto proprio Che botta Una gran botta abbiamo iniziato Mi sta bene che lui prenda le botte Nel senso che l'ho messo apposta in prima linea E quindi si Ok data Perfettico Fa poco dovrebbe salire Fa pochissimo Bene dai Non c'è malo Non so ancora cosa gli darò A lui Ma ecco lo scopriremo adesso Perché Ammazzando questo Dovremmo riuscire a fare qualcosa Ovviamente tocca prima a lui Però Vai Si la forza in più Ha voluto dire Cazzo Così lo guansottiamo E' quello che volevo vedere La cosa più bella E ovviamente Lo sono livellato Oh porca troia Proviamo con sto coso Cazzo Sono tanti qui Quindi vediamo sicuro Se sopravviviamo C'è da dire Ecco Un arciere Ma sono tanti arcieri Eh Perfetto Allora Facciamo così Vai In linea di là Poi facciamo così Ma almeno così Dalleggiamo più che possiamo E questo qui lo facciamo fuori Perché è quello che più mi preme Ok Che fanno tanto danno E Ok Lui resiste abbastanza Vi sta bene L'arciere Fa un fottio di danno To E muoreci Oh dai Abbiamo eliminato La La Peggiore Feccia Diciamo E vediamo qua Ma già Buono buono Dai mi piace Ok Andata Buono Ha livellato Andiamo subito a vedere Va Che è meglio Vediamo i talenti Dove li mettiamo Stavolta Aumenta il danno Col cappello Ma cosa stanno dicendo Col colpo di Thor Col danno da Thor Insomma E quello lì Incrementa Incremento di vita Quando uno scudo Lo scudo non ce l'ho per il momento Anzi gliel'ho messo Gliel'ho messo lo scudo Era utile questa Più 5 cuori Sì E la resistenza magica Non sarebbe malo Scusate non l'ho messa Conferma Ah devo mettere due Per metterne uno E' un bel pententone Ma comunque Non è male lo stesso Ragazzi Lo facciamo E tanti saluti Questa c'è da solo più 5 E poi passiamo questa E questa cosa fa Da 35% di probabilità Di ricevere Di ricevere L'incantesimo Parata Migliorata Quando viene colpito Ottimo Un incantesimo Buff Buono 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 Beh Subito no Fammi cercare un pochettino Anzi fammi fare così Va che è meglio Ecco Già così Eh vabbè Questo usiamo lui Che è bello pieno Siamo a posto Insomma sì Eccoci qua Oh quante belle strade Madame Adorè Vediamo un po' Eh che cazzo Vabbè uno Si fa ad occhi chiusi Bene Dai sono contento Lui no Perché si fa così Tanto lui si sa Che è più resistente E qui facciamo così Tac Oh Vai così Bene Questa è andata senza danni Mi fa piacere E siamo a posto Poi Non ho visto Lui è livellato Però non si è ripristinato La vita Strano Vabbè Facciamo così Eccoci qua No lui Lo combattiamo Tranquillamente Allora Solito discorso Normale attacco Stordimento Sperando che venga Perfetto E lui Facciamo così Beh dai Finchè ce n'è uno Lo gestiamo bene Perfetti Con materiale da crafting Che serve E vediamo Che cosa ci da Ispezione Afflizione magica Non è che mi piaccia molto L'esistenza magica in meno Vabbè Quella mi può Stare che Ovviamente adesso Arriveranno solo maghi E quindi Il rinnovo del male Dai Questo qui Ci rigenerà la mana Anche se Subiamo più danno da magia Vabbè Mi sta bene Finchè c'è equilibrio Mi fa Piacere E quando non c'è Che mi fa Incazzare Ok Perfettico E andiamo così Vai Beh Escono uno alla volta Io sono che contento Un osso Ultimo per le crafting Va bene Usiamolo Abbiamo fatto tutto Ma era piccolo Bene bene Sono contento Andiamo qua E andiamo qua Fantastico Tanti soldini 60 più 15 Eh no 60 più Giai ti volevo dire Scusate Ho visto 15 Quanto costava Oh che bella coscia Dai ce l'abbiamo fatta bene Andiamo dalla vacca Della vecchia Scusate Da qui Insomma da lei Tanti soldi Questo mi serve Questo mi serve Questo qua Potrebbe essere utile Per il bardo E in generale Un po' per tutti Potrebbe essere utile Questa armatura Perché comunque Ci da più due di difesa Che al momento Ci servirebbe Non farebbe certo malo Eh Il problema Che dopo diventiamo Più lenti Ci dovrei pensare Vabbè Tanto lo possiamo Craftare Ragazzi Amen E qui Qui prendiamo Di questi Perché non ci so mai Ma che è meglio Ok Usciamo dalla vecchia E andiamo dal vecchio Facciamo una cosa Per la volta E vediamo qua Se possiamo fare Queste pozioni No Non lo posso fare ancora Armi Ancora L'arco Lo posso fare Dovevo farne tre Di item Per poter livellare E vedere quelli dopo Eh Sarebbe buono farlo Questo Bastone della morte Arma a due mani Questo è da mago Io il mago non ce l'ho Sarebbe Comunque lo possiamo fare E allora Se ci sono item Da mago Sicuramente il mago Prima o poi arriverà Quindi io sono Abbastanza fiducioso E avado con L'ultimo Livello Speriamo bene Conciamo le dita Mamma mia Vediamo un pochino Cosa possiamo facere Ecco subito A due di attacco E vediamo un po' Qui lo sottiamo Oh che cosa bella Questa mi piace tanto Non è rincoglionito Ma pazienza Tanto lui è morto Oh così mi piace Mi piace Mi piace Così si possono fare Strategie migliori Dai Incrementando il livello Usandoli I talenti In base al gameplay Che facciamo Così è strategia E mi piace Ok due si fanno Senza accessivi problemi Oddio Vediamo un po' Quasi Se possiamo farcela Vai Attacca Purtroppo è limitato Lo so Mi tocca farlo così Perché questi sono forti Andiamo un po' Ok E questo qua Attaccherà lui Perfetto Va bene Abbiamo limitato E mi va bene Cinque No questo Questo Vai Perfetto E facciamo Facciamo così Così uno Lo uccidiamo E siamo posto E l'altro fa Oh Ci ha diventato Trocchi danni Sono contento Ce la facciamo Ce la facciamo Sento Me lo sentono Le ossa Mamma mia Ok Un'altra sparita da vendere Quelle dovevo vendere Non ci ho pensato Andiamo di qua Questa la assoliamo No con questo Perfettico Andata Questa andiamo di qua Oh Speriamogli una benedizione Rigenerazione vita Vai Così mi piaci Perfettico Perfettico Oh Questa usiamo ancora lui Eh la prossima Non ce la facciamo Sperando che non ce ne sia Vai E protezione magica Mamma mia Si stanno concatenando Delle belle cose Ragazzi Così mi piace Insomma Sì Ecco qua Ci deve dare La Insomma Stimolo di poter giocare In questo gioco Ok Lui si ammazza bene Ciao Stato un piaciore Tanti saluti Della moglie Ok Due gold Ma pazienza Importante l'esperienza Anche lì Sì Andiamo poi Rigenerazione vita Mamma mia moglie Che succede Insomma sì Vabbè Andiamo qui Ecco qua E adesso ho rigenerazione vita Quindi non dovrei avere Eccessivi problemi Ok Ehm Hm Diciamo così Eh lo so è poco Ma Meglio di niente Ok E questo qui Dovrebbe Facciamo così Va che Facciamo più danno Perfetto Vediamo un po' Qua E adesso Qua Ehm Ma sì Dai Esageriamo Abbondiamo Benissimo Dai Ne siamo usciti Bene Perché questo Avende a 35 È sempre buono E mi fa piacere Avere un po' di soldi Perché in questo gioco Ho l'impressione Che ne serviranno Parecchi Non lo so Questo vago sentore Speriamo che mi sbagli Perfetto Abbiamo esplorato tutto Io per sicurezza Lancio questa Perché non si sa mai E ho trovato tutto Possiamo uscire ragazzi Abbiamo finito Il mega dungeon Non ci credo Che bello Scasseggia Scasseggia 70 E questo qua Che non è malo Perché ci dà più 5 di talento Eh non è male Sarebbe da considerare ragazzi Bisogna vedere la strategia Che vogliamo fare Perché sarebbe carino Poterlo usare Allora fatemi vedere Un attimo Questo è il Cosa Dove è finito Scusate L'ho perso Questo Eh perché Sì Mi dà Meno un cuore Però Posso usare più Abilità Potrebbero essere utili Servirci Quindi sì Dai facciamo così Questa è stata fatta Senza nessun problemi Questa la possiamo usare Per livellare Lo userò io Per livellare Per farmare E per qualsi voglia dire cosa Allora Andiamo a vedere nel negozio Che è un po' di emozione C'è Sempre Oh questo sì Questo sì Questo sì Questo sì Tutti i materiali da crafting E questo qua invece C'è T1 di magia T1 Di mana Io lo prenderei per lui Giusto così Ok Andata Ho ancora 200 Ho ancora No c'ho Contrazione gergale Vedete che lui Ce l'avevo messo E adesso lo metterò Anche a lui Vai Perfettico Oh così mi piaci Uno di magia Più uno di danno Alla magia Che comunque fa sempre bene E fa sempre comodo Lui avevo messo un coltellino Perché Con questo qui Avrò un bonus più avanti E dopo lo userò Questo è un danno fisico Io il danno fisico Non lo faccio Quindi non ha senso Metterglielo Quindi userò quello Perché lui Non usa il danno fisico Quindi non ha senso Ok Lo venderemo Ne abbiamo due Non fa tanto Però meglio di un caccio Le talle Beh quello sicuramente È meglio Uno di magia Perfettico Di quello Uno di magia Più uno di danno Ecco questo qui Aveva più senso Secondo Il mio modesto parere Poi dopo vediamo Perché Ricordiamoci che Il talento Che c'è più avanti Che chiedeva Qualcosa In mondo del silenzio Non è che mi piace tanto Canzone Protettrice Rimuove un effetto negativo Da ogni alleato Eh Non sarebbe malo Eh Questo mi piace parecchio Rimuove il costo Della canzone Quindi devo fare due strade Sei brutto e cattivo Te l'ha mai detto nessuno Penso proprio di sci Vabbè Ci guarderemo poi Andiamo A fare questo impestato Ce la faremo Io penso proprio di no Però Ci possiamo sempre provare Va bene Eh Nessun capo Sarà molto difficile Massimo tre abilità E massimo tre pozioni Cazzo sei proprio impestato Eh Vabbè Proviamoci ragazzi Ve lo faccio vedere Due combattimenti Vai Andiamo così Se ce la facciamo Andiamo così Cattivo E brutto Qui Facciamo così Almeno quello Lo battiamo fuori Oh Dai Avevo iniziato bene Bene Mi fa piacere Un osso Perfetto Pezzetto E andiamo giù Qui c'è il solito cartello Ok Non so se l'ho fatto vedere Perché non ricordo Se l'ho fatto vedere La strage Che Massonica Oppure l'ho saltata Vabbè Questo è dura È dura perché sono tre machi Anche se uno Riuscirei in teoria Di ammazzarlo Eh Questo Più Più Sono presso questi Che fanno più malo Perfetto Ecco perché Vedi così Uno Ha castato Ed è andato via Ok Facciamo così Perfetto Questo Facciamo Così Sto pensando Facciamo così Forse riesco a far fuori Due maghi Perfetto Ragazzi Strategia È la cosa più bella È la cosa più bella E adesso Andiamo di cattiveria E violenza Tu mi hai fatto un debuff Da panico ragazzo Eh Eh vabbè Pazienza Andiamo qui Di cattiveria Dopo pensavo Alla magia di prima Ma me l'ho dimenticato Non mi toglie il debuff Wow Interessanto Incomincio a andarci Cosi interessanti Eh Questa c'è un debuff Che vorrei tanto togliere Però Speriamo in qui Ma proprio speriamo Oh questo dungeon È proprio sfigato Non c'è niente da fare Accidenti a me Io direi di fare Eh la birra Purtroppo funziona Con uno solo Direi di fare niente Direi che Andrà male In una tua volta Vediamo un po' Rigenerazione di vita Oh Almeno qualcosa di buono Che cavolo Se no La vedevo male Almeno una cosa positiva Dammela Eccoci qua Eccoci qua Ed eccoci qua Al solito giro Questo mi dice Che c'è qualcosa Che ci può fare E la leva è qua Ok Andiamo E andiamo Perfetto Ispeziona E ovviamente Debolezza Mi sembra ovvio No Eh vabbè Stavolta È andato un po' meglio Dell'altra volta L'altra volta Tremmo l'inizio di fine E Proviamo Magari qualcosa Vabbè Chi lo sa Vediamo un po' Cosa poter fare Eh La cera Che mi interessava Che fosse Addormentato Non lo è stato A posto Vediamo un po' Eh lo so Tutta cosa È resistito Ha resistito Vediamo un po' Vediamo un po' Vai Perfetto Questo Vai È già qualcosa Ragazzi È già qualcosa Mi va bene Così Mi va bene Io si è rigenerato Quindi il suo turno È andato a passare Ecco qua Facciamo così Resistito ancora Sei un bel paziente Vai Muori Perfetto Questo Perfetto Ce l'abbiamo fatta Non mi devi dire Che fai un danno E poi ne fai un altro Perché sei un figlio di troia Vuol dire Eh Che cazzo Bene Questo mi piace Eh Mi aveva detto Che facevo il danno massimo E io ci ho creduto Invece Ok Andata Ce l'abbiamo fatta lo stesso Perfetto Sette monete d'oro Ragazzi Sette monete d'oro Sono tante No non ancora Perché Devo fare ancora altre cose Purtroppo Andiamo un po' Vediamo cosa succede Se faccio questo Ah Non posso fare niente Va bene Eh Forse ce la facciamo Stavolta ragazzi Perché Perché penso di sì Vediamo un po' Non ho il mana Maledizione Eh Ho appena detto Che forse ce la facciamo Ma mi sa che mi rimangio tutto Dovevo guardarci Che avevo il mana Accidenti a me Eh Questo sta prendendo tante bocche Allora Pozione Bevi Perfetto Tu Dai A loro Così Ottimo Ok De buffo li ho persi tutti Va bene No non li ho persi tutti Mi hai dato un altro adesso Tu bevi Pozione Grazie Molto gentilo E siamo a posto Ok Si è debaffato Eh Lui è così Lui facciamo così To Oh Va bene E tu Muorici subito Ok Uno è andato Poi Facciamo così Che lui Non era Resistente Mi sta bene Mago Si è rigenerato Mi va benissimo Lo stesso Facciamo così Andata Facciamo così Andata E facciamo così Vai Così lui si rigenera Mi va bene così Ok Perfetto Esatto Ha rigenerato Benissimo Mi sta bene Vai Vai E vai Ce l'abbiamo fatta Oh ragazzi Bene Vedete Con un livello in più Ci voleva proprio Un livello in più Non c'era niente da fare E ovviamente le abilità giuste Perché se no Non possiamo farcela Vediamo un po' E qui facciamo questa Perfettico Ottimo Ho paura Che Ah Questo qui Mi interessa Le gire la mana Usa Non è tanto Però Meglio di un caccio Nelle palle Allora Vediamo un po' Vediamo un po' Questo lo possiamo usare Tranquillamente Benissimo Ok Vediamo cosa c'è Vediamo cosa c'è Oh che palle Che sei Sciogli Mamma mia Cioè Sto dungeon È veramente Impestato Come pochi Mamma mia Mamma mia Per piacere Anche tu sia Ok Vediamo un po' Rigenerazione mana Finalmente qualcosa di buono A lui ragazzi Mi tocca Usare una pozione Non volevo Però Mi tocca farlo Perché qua sicuramente Ci sarà un combattimento Vero Cazzo Non c'era niente Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Non ci credo Oh Alleluia Alleluia Vai Vai qua Mi spiace aver usato Una pozione Ma pazienza A me non ce l'abbiamo fatta Vedete che con un livello in più Delle abilità fatte apposta Siamo riusciti a far tutto Ho usato più Ah perché Ci sono stato un fumo Di trappole Di merda Porca miseria Eh beh Questo farlo Doveva essere abbastanza facile Perché non c'è bisogno Che faccia Scopra tutto il dungeon Basta che non uso Le abilità E lo posso fare Lo farò off camera Adesso per il completismo E comunque Abbiamo preso 40 E bel po' Di materiale da crafting E non mi dispiace affatto Ok Mi ha sbloccato Quello dopo Vediamo la vecchia Cosa ci dà Ci dà Tante cose Lo scudo Non mi ricordo Chi aveva lo scudo Le scarpe Ci servono Questo va bene Materiale da crafting Questo va bene Questo va bene Scusate Voglio vedere lo scudo A chi lo posso dare Dei miei Allora lui Lui c'ha la lama a due mani No non c'è la lama a due mani Ci posso mettere lo scudo Lo scudo Potrebbe essere La soluzione Migliore Per lui Perché ha una Maggiore difesa Intanto le scarpe Lo danno più veloce Ma io Chi ho bisogno Di chi sia più veloce Lui E magari lui Perché ha un malus Di velocità Ok Facciamo così Compiamo anche Dalla vecchia Il nostro scudo Che costa 40 Di mortacci sua Non è che lo posso Craftare Visto che Tanto devo Comunque livellare Scudo Dove sarà mai qua No Qua Ok Cos'è questo Livello di richiesto Più due magia Eh Più due danno magico Mi interesserebbe parecchio E posso farlo Ragazzi Lo faccio un secondo Scusate ma La cosa mi interessa Quanto Noi abbiamo Più cinque Di abilità Più cinque Di abilità E più due Di magia Non ho Il danno Magico Eh no Questo è il mana Quindi Lo posso usare Anche per lui Il mana Va bene Sì sì Se il mana Va bene Ok Perfetto Non abbiamo Fatto una cacata Menomale Allora scusate Stavamo dicionando Che ho preso La vecchia Invece del laboratorio Che Volevo vedere Se Riuscivo a fare Lo scudo Eccolo qua Lo scudo Lo posso fare Ragazzi Che cazzo Allora lo faccio Vai Perfetto Così mi risparmio 50 ori Quelli che erano Insomma E glielo andiamo A mettere A lui Scudo Oh Questo scudo Ci ha regalato Più Di difesa Anche se Un po' Più Lento Ma pazienza In fondo Mi va benissimo Così Perfetto Ragazzi Io direi che Per questo video Ci possiamo fermare qui Quindi Come al solito Vi invito A lasciare un like Commento Se vi piace La serie E fammi sapere cosa ne pensate E per adesso Un video saluto La sciva Ciao ciao Ciao